Gentili telespettatori, buona giornata. Stiamo parlando di Apocalisse 4800, che non è un film hollywoodiano, ma è il nome del nuovo caldo in arrivo, dove 4800 è l'altezza, 4800 metri, dove si è spostato lo zero, si è spostato molto in alto, 4800. Ma ora il picco si sposta nel fine settimana a Malano, 40 gradi, sabato e domenica. È iniziata la settimana più pesante dell'anno per il caldo. Le temperature saliranno giorno per giorno fino al fine settimana, oggi è martedì. Il problema è al nord, le ore peggiori dalle 14 alle 17. Ma questo è risaputo, il caldo più forte è sempre dalle 14 alle 17. Anzi, secondo la mia esperienza, tra le 16 e le 17 c'è il momento più caldo della giornata, dove il cemento ha preso il caldo dalla mattina. Insomma, verso le 16 è il momento più caldo della giornata. Dopo le 17 è il picco e la temperatura comincia a scendere. Ecco, il Ministero della Salute dice che mercoledì nove città sono da Bollino Rosso. È la settimana più calda dell'anno. Prevista da giorni è arrivata la settimana peggiore di tutte. Tanto sole, un po' ovunque, temperature che andranno ad aumentare mano a mano che si avvicina sabato e domenica. La fotografia della settimana che va da lunedì, 18 luglio fino al 24 luglio in Italia, l'AFA sarà una costante in particolare al nord, sotto la stima delle temperature alle 17 di domenica 24 luglio, secondo il sito Windy, con Milano, Bologna e Firenze destinate a boccheggiare. Ma anche altrove ci sarà molto caldo. Ma vediamo un po' che cosa succederà. Beh, lunedì lo lasciamo perdere perché, vabbè, no, lo lasciamo perdere. Insomma, questo video esce la mattina, quindi ancora il lunedì e martedì. Cinque città registreranno temperature da Bollino Rosso. Quindi lunedì e martedì Firenze, Perugia, Latina, Brescia e Bolzano le temperature saranno tremende. Mercoledì saranno nove invece le città. A quelle precedenti, Bolzano, Brescia, Firenze Latina e Perugia, si aggiungono anche Bologna, Genova, Rieti e Roma. Questo è il bollettino del Ministero della Salute su 27 città. Con il progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche le città contrassegnate da Bollino Arancione. Mentre Bollino Verde fino a mercoledì ce l'avranno Reggio Calabria, Bari e Napoli. Ma quali saranno le zone dove il caldo colpirà più fortemente? Si guarda la Val Padana, dove da venerdì 22 e per tutto il corso del fine settimana, le colonnine di Mercurio potranno raggiungere, se non addirittura oltrepassare, la soglia dei 40 gradi. Valori molto vicini al tetto dei 40 gradi si registreranno comunque anche sulle zone interne della Sardegna, dalla Sicilia, della Toscana e della Lazio, ma anche lungo il versante adriatico. L'eccezionale calura risparmierà davvero pochi settori. Le ore peggiori, come vi dicevo, saranno dalle 14 alle 17. Mentre martedì l'anticiclone africano Apocalisse 4800 continuerà a portare un tempo stabile ampiamente soleggiato su tutta l'Italia. Pertanto è atteso qualche temporale isolato nel pomeriggio sui rilievi di confine del Piemonte. Qualcosa in Val d'Aosta, mentre i venti deboli, i mari risulteranno caldi, calmi o quasi calmi. Naturalmente tutte queste temperature poi si arriverà al fine settimana che vi racconto che cosa succederà. Per esempio venerdì e sarà ancora ben presente Apocalisse 4008 su tutta l'Italia garantendo una nuova giornata all'insegna di un tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature sempre roventi da nord a sud. Al nord giornata che diventa ancora più calda delle precedenti e serena un po' ovunque al netto di qualche nuvola. Temperature e valori massimi attesi fino a 39 gradi a Bologna, si soffre anche a Malano e Bolzano con 38 gradi. Mentre centro e Sardegna giornata piena di sole con temperature che saliranno mediamente di qualche grado. Temperature e valori massimi compresi tra i 33 di Pescara e Campobasso e i 37 di Roma. Sud e Sicilia un'altra giornata ampiamente soleggiata con cielo praticamente sereno dappertutto tranne qualche velatura nell'entroterra calabrese in Campania. Temperature e valori massimi attesi tra i 32 di Potenza e Napoli 36 di gradi. Andiamo a vedere sabato. Sabato l'anticiclone africano sole prevalentemente caldo intenso con punte di 40-41 gradi in pianura padana. È il giorno in cui potrebbe cadere il record storico di caldo di Milano che resiste dall'11 agosto 2003 con 39,3 gradi all'ombra. Un dato registrato dalla stazione Brera nello storico istituto che misura i dati dal 1763. Al nord giornata serena con qualche nuvola in Liguria. Temperature e valori massimi attesi fino a 40 gradi a Bologna. Al centro e Sardegna giornata serena ovunque. Temperature e valori massimi che saliranno ulteriormente toccando i 39 gradi a Roma, 37 a Perugia. Sud e Sicilia sole ovunque in una giornata che mediamente sarà più calda di quelle precedenti. Temperature e valori massimi insensibile rialzo con la Puglia che resta la più calda. A Bari si toccheranno i 38 gradi. Mentre domenica 24 luglio l'anticiclone filicano sarà ancora più caldo. Temperature sempre 40-41. Super ondate di caldo con picchi fino a 42 gradi in pianura padana. Localmente anche in Toscana, Umbria e Lazio. A Milano 40 gradi. Mentre al nord giornata che torna a farsi più serena rispetto alle 24 ore precedenti. Anche se restano le velature in Liguria e in Trentino Alto Adige. Temperature e valori massimi in rialzo con punte di 41 gradi a Bologna e 40 a Milano. Centro e Sardegna continuano la settimana con giornate serene ovunque. Temperature e valori massimi che saliranno ulteriormente toccando i 40 gradi a Roma e i 38 a Perugia. Mentre per il sud della Sicilia sole ovunque al netto di qualche nuvola nel basso tirreno. Temperature e valori massimi ancora in rialzo e che vede Bari il luogo più caldo dell'area con 39 gradi. Grazie a tutti e arrivederci a presto.